Vado in testa a lavorare, vero? Dove? Che fai? No, ce la guardi un parcheggio. Oh! Rientra dentro! Lascia perdere questa cassa! Entra dentro! Scusami, posso entrare con la macchina di là per il Campo Rom? Campo Rom, sì sì sì. Sì? Ah, va bene, grazie. Stefano. Agnese. Ho accompagnato mia madre a fare volontariato. Lasciami il telefono, no? Il numero, non il telefono. Grazie, Gesù, per averci adottato nella tua vita. L'unico amore che vale la pena di essere vissuto è quello in cui si dà tutto all'altro. Questo si chiama matrimonio. Perché insegniamo un bacio? Io voglio rimanere pura. Tu sei pura. Gli ho portato dei regali. Poi perché vado a questi? Hanno bisogno. No, capito. Sono poveri e ci hanno bisogno. Che succede? L'hanno sbattato mia madre. Perché non so più niente di te, non so dove vai, con chi stai, non so. Mi vuoi far morire paura? Mi puoi stare qua dentro. Voglio stare con te. Hai fatto una cosa gravissima, Agnese. Gravissima. Atenuto. Atenuta. 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 Cadina.